Teleradio Nord Barese è sempre con voi, sempre con voi! Teleradio Nord Barese è rinata solo esclusivamente per voi. Teleradio Nord Barese alla Trani Fashion Night, il patrocino del comune di Trani con l'assessore Lucia De Mari. Appuntamento importante dopo le frecce tricolori, Trani Fashion Night a Trani. Il monastero l'abbiamo fatto rivivere, questa è solo la prima di un lungo serie di eventi che terremo qui quest'estate dopo tanti anni di chiusura. Abbiamo riaperto come sapete con le frecce tricolori, grande successo nazionale ed oltre e poi subito con questa sfilata di moda, una sfilata di allegria, una sfilata di simpatia e di freschezza. E' molto bello sotto gli archi del monastero di Colonna che è una delle nostre perle, una delle perle del patrimonio di Trani. Suggestivo lo scenario, suggestivo anche l'evento ma allo stesso tempo si proporranno degli altri adesso? Eh sì, come Assessorato della Cultura ma come amministrazione comunale naturalmente stiamo vagliando le numerose proposte che sono pervenute di richiesta appunto di utilizzo del monastero ma appunto le vaglieremo a seconda del calendario, dell'importanza e della presenza artistica e culturale. Per questo che è stato un evento fortemente voluto da lui, Giuseppe Leone al quale va il nostro più caro e forte applauso, Isabel, grazie Giuseppe. Lui ci deveva tantissimo a rappresentare e ad augurare a tutti una buona estate, come? Così, con la linea Dolce Mare by Isabel. Grazie a tutti. 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 Fashion Night, una delle modelle che ha sfilato per Isabel la nostra malette com'è stata questa emozione sfilare al monastero di Colonna Trani? Questa è una delle prime molto molto bella e entusiasmante questa è la prima volta che sfili a Trani oppure hai avuto altre esperienze? La prima quindi buon vento e soprattutto la prossima occasione ce ne saranno delle altre te l'auguriamo grazie adesso ammireremo nuovamente questi meravigliosi costumi che trovate presso Isabel a Trani con un complemento direi fondamentale per quest'estate per proteggere i nostri occhi dei raggi solari e a tutti voi noi consigliamo Walter Attimonelli Lottico ad Andrea grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Radio Nord Barese è rinata solo esclusivamente per voi.